Ecco il mister di Felice, oggi è la seconda giornata di allenamenti dopo la pausa estiva e oggi il mister Gabriele fa sul serio. Questi sono i nostri allievi che parteciperanno al campionato provinciale, ancora non escono i gironi, ma speriamo che siano inseriti nel girone di Chieti e non quello di vasto in quanto abbiamo nel girone di Chieti terreni di gioco migliori, in erpetta sintetica e naturale. Dammi la pala, no, metti per te col ginocchio e dammi la pala. Guardate, io non mi fermo mai, sempre in movimento. Su, hop, su, hop, riattivo. Teo, hop, su, hop, su, sempre riattivo. Guido, Alessio, Enrico, Scantalele, Michele, Cristian, bello, cara. Eh sì, è quello del mister, il mazzo del mister, sì. Forza Lele, vai Enrico, vai Messi, vai Cristian, scara. Dai ancora, dai ancora, dai ancora, dai ancora, apriere, gasato al massimo. Su, dai ancora, destra e sinistra, vai, a dieci cambiamo, vai Matà, così, buono. Grande Michele, grande, forse meglio dell'anno scorso, Michele, vai. A quest'altro lato, con le casacche bianche, ci sono i ragazzi dei giovanissimi. Adesso sono allenati da mister Giovanni Di Giulio, là in ponto. Andiamo qua, col compagno davanti. Compagno davanti, ok? Cristiano, ce l'hai il compagno davanti? Siamo quasi al tramonto, i nostri ragazzi sono ancora sotto torchio. Guarda, ti lancio la palla, ti collo, vai, ti collo. Ehi, guarda, dammela a me la palla, dammela a me. Domani, per tutta la settimana, sempre stesso ritmo di allenamenti, dalle 5 alle 19.30, i nostri ragazzi si devono preparare all'imminente campionato. Per la prima volta allievi, passa il tempo, diventano più grandi e cambiano categoria. Io sono venuto che li ho visti da esordienti, adesso lo sto rivedendo da allievi. Ecco il nostro Michele. 13, 14, bravo, 15, su, 16, su, up, su, così, ancora, ancora, su, up, su, ancora, buono, ancora, up, ancora. Cambio, 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 vai, veloce, così, dargliela davanti, davanti la palla. Il ragazzo è un nuovo, nel ruolo di portiere. Su, up, up, bravo Enrique, up, stai sempre in movimento, up, sì, up, così, in movimento, bravo, via, up, su, up, su, up, su, up, sì, 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 dai, così mi piace, dai, dai a me, up, su, up, buona Cristiana, cambio, via, up, sinistro. Come, up, up, su, up, su, up, su, up, sì, up, sì, up, sì, up, sì, up, sì, up, ok. Per la terra.